Ben tornati, 14.28, questa è Community, è Zerremo anche quest'oggi, quindi continueremo a collegarci con gli artisti in gara e evidentemente anche in promozione perché alcuni di questi hanno appunto degli album che escono quest'oggi, durante tutta la puntata quindi li vedremo, li ascolteremo, li intervisteremo, intanto però il nostro punto di vista critico sulla Kermess, quindi da Liroshima Monamur di Torino, Kishperlicchio. Ma no, noi non possiamo combattere contro, siamo degli eroi. Ma scusa, eccomi qua, eccomi qua, ma com'è, eccomi qua, che cos'era quella cosa lì era? Sì, erano praticamente, no era duro lavoro, infatti come avete potuto notare sono molto pieno di lavoro, infatti sto preparando le domande da fare questa sera, non so tra l'altro se avete notato, dimmi. Ivan, dimmi pure. Le domande questa sera, insomma, non è che ci sarà molto posto, devi essere soprattutto bello, simpatico e che domande vuoi fare? Vabbè, sul fatto di essere bello simpatico penso che proprio non ci siano problemi, insomma, ma per quanto riguarda le domande insomma ci sto pensando un attimino, dipende un attimo da quello che vedrò anche nel backstage appunto di Sanremo, insomma questo qua è molto importante per le domande che appunto farò. Va bene, intanto vuoi leggermene qualcuna? Ma allora, no, più che altro volevo parlare riguardo a quello che è il mio look di questa sera, infatti non so se avete notato ma ho abbandonato l'idea di cavalli, ok? Per abbracciare lo stile di gallina, non so se avete notato bene. E tra l'altro, prima di parlare delle domande, sono stupende, sono fighissime, insomma. Non so, prima di partire volevo soltanto parlarti di qualche gossip riguardo a Sanremo, infatti, purtroppo, Iva Zanicchi è stata eliminata definitivamente dalla Kermesse Sanremese. Ahimè. I italiani, comunque, non disperate, eh purtroppo, non disperati italiani perché comunque da voci di corridoio, infatti, pare che molto probabilmente la nostra iva nazionale sia stata selezionata per il ruolo di Ivelina nella prossima edizione di Strisciano Notizia. Immaginiamo un pochettino che roba, eh. E comunque bella storia. Io direi che si potrebbero fare diverse domande, tipo agli ospiti in ballo questa sera, come i cantanti, che magari vorrebbero un'altra chance per, appunto, vincere il festival. Però sono ancora un po' indeciso, se devo essere sincero. Sì, se ne potrebbero fare tante di domande, io in questo momento anche ne vorrei fare tante di domande. Intanto, Sberlicchio, grazie ancora una volta per essere in collegamento con noi in preview, tra l'altro perché poi cosa succederà? Che noi ci collegheremo ancora con voi per sentirvi live. Ovviamente anche questa notte avete fatto le sette del mattino perché loro bravissimi, stanno in piedi, si guardano Sanremo, ci pensano e poi riarrangiano tutto, scelgono il pezzo, lo modificano e lo masterizzano, credo, pure fino all'ultimo minuto e noi siamo qui poi ad aspettarvi per averlo in anteprima assoluta. Quest'oggi avete scelto? Allora, quest'oggi abbiamo scelto il brano di Dolce Nera. Bene. Che praticamente si intitolerà praticamente il mio voto unico e comunque dopo lo vedrete insomma. Va bene, ok, a tra poco! Adesso io ritorno al mio duro lavoro comunque, quindi vi saluto da Torino e ritorno al mio duro lavoro, scusate ma è veramente importante quello che vuoi fare. E complimenti per la scelta di Gallina, sembra senz'altro un po' più originale. Eh sì, certo, è bellissimo. Va bene, grazie! Anche oggi l'angolo del teatro sperimentale si chiude qui, ci vediamo un video e poi torniamo a parlare di Sanremo. Amy McDonnell, this is the life. Bene, torniamo a collegarci con l'Iroshima Monamur di Torino per il live quotidiano dei fratelli Sperlicchio. Vediamo. Ausianism. A-a-a-a-a-a-a ka-a-a-a-a-a A-a-a-a-a-a-a-a Tee le toti Interоны, this is the type of faith! Tes都i a me, tes e le toti A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Forse non dovrei, fatti un danno e dimmi se è ancora credito. Stai guardando me, sta clamando me o no? Sai la gnocca è qui, amica è irresistibile. Come tu la vuoi anche in bikini, anche in bikini. Se darei a me il tuo voto unico, forse avrò per me spazio di reality. E non sarò più teso, e me la tirerò costantemente. Te la canto io, a porno. Se bestemmierò, da Costanzo andrò. Vuoi capirlo o no, che io voglio emergere? Io mi sfido, mi spoglio, mi sfattur solamente per te. Per lasciarlo, sai, potrei farti tutto. Se darei a me il tuo voto unico, forse avrò per me spazio di reality. E non sarò più teso, e me la tirerò costantemente. Te la canto io, a porno. Tu darei a me il tuo voto unico, forse avrò per me spazio di reality. E non sarò più teso, e me la tirerò costantemente. Te la canto io, a porno. Poterei per me. Sì, era dolce nera con una band pazzesca. Ovviamente cantava il suo amore unico questa volta. Allora, noi siamo... È la giornata della gallina. Quest'oggi noi torniamo, a proposito di gallina, a collegarci con l'Eroshia Mon Amour di Torino, e quindi con gli sperlicchio. Con gli sperlicchio. Statici questa volta, va bene. Allora, dato che voi siete statici... Ah, giustamente, insomma, c'è un po' di ritardo. Io vi faccio anche un'intervista seria questa volta. Anzi no, la rimandiamo a lunedì. Parliamo invece di quello che farete durante il weekend, perché, insomma, sono sicura che lunedì ci proporrete la vostra versione sperlicchizzata del pezzo vincitore. Allora, sicuramente. Devo soltanto precisare che in questo momento siamo i Powers Berlitto. La posa. E quindi, niente, stiamo preparando per lunedì. Siamo proprio curiosi di sapere chi vincerà questo festival di Sanremo. Dal canto nostro il festival del Tarocco è già stato vinto da Povia. Però vediamo poi la parte ufficiale, cosa ci propina. Ok, una parte ufficiale su cui comunque voi avete qualcosa da dire. Sentivo poco fa anche delle riflessioni. Per esempio, esatto, si parlava di un concorso, cioè si è parlato molto poco di un concorso che si chiama Sanremo 59. Niente, noi comunque siamo andati a dare un'occhiata a questa cosa. Ci sono dei gruppi veramente interessanti. Non capiamo come possano fare votare. È una piccola polemicuccia, però non capiamo come possano votare gli utenti da casa senza vedere questi gruppi. Anche perché la cosa funziona col televoto. Quindi c'è tutta una polemica intorno. Questa cosa ci ha incuriosito molto e il fatto che c'è silenzio da alcune parti ci colpisce. Va bene, secondo voi chi vince, ragazzi? Ma non lo so, per il momento abbiamo vinto noi. Almeno per noi. Non lo sappiamo. Noi facciamo il tifo per Renga. Ah, bene, carino. Ci piace. Allora, noi ci vediamo lunedì. Mi raccomando, riposate, dormite, mangiate, fate qualcosa perché vi vedo proprio provati. Ci proviamo, ci proviamo. Va bene. Perché anche oggi ho saputo che avete fatto le 7 della mattina per ovviamente preparare il live, insomma, lavorare poi a quello che fate qui con noi durante il giorno. Bravi, bravi, bravi. Infatti qui dobbiamo ringraziare l'amico Jason che si è veramente distrutto per conciarci come i Power Ranger. Tra l'altro spettacolari. Veramente. Grazie ragazzi, ci rivediamo lunedì. Ci rivediamo lunedì. Ciao. Grazie a voi. Grazie a te, fratelli Sperlicchio. Allora, sono le 15.02, la puntata finisce qui. Noi torneremo con Community Best Of domani alle 14, dopodiché lunedì alle 14 quasi alla normalità. Quindi tornerà il nostro Nicolò Torielli a Stromboli 18, tornerà anche il nostro Ivan. Nel frattempo però il nostro sito che invece è onmusic.tv dove potete ovviamente consultare delle robe e vedere informazioni, caricare il vostro materiale, foto e talent e quant'altro. Noi ci vediamo appunto domani con il Best Of alle 14, community at tormusic.tv invece la nostra mail. A domani.